La birra di oggi è una Doppelbock, uno stile tipicamente associato alla tradizione tedesca ma brassata in Italia dal birrificio lombardo De Waal. Prima di vedere le caratteristiche di questa birra e procedere alla degustazione, se i miei calcoli sono esatti, questo video dovrebbe uscire la settimana prima o meglio il lunedì stesso della settimana in cui inizierà il Beer Attraction di Rimini o Beer and Food Attraction da quest'anno se non vado errato di Rimini. Io riuscirò a partecipare il lunedì 17, che credo sia l'ultimo o il penultimo giorno di fiera. Ovviamente se dovesse capitare di incontrarsi con qualcuno farebbe sicuramente piacere. Se non dovesse riuscire a partecipare vedrò di fare magari qualche piccolo report o fotografico o anche video. Adesso vedo un po' come attrezzarmi. In tal caso, se vi va, vi rimando anche al mio account Instagram dove probabilmente se riesco anche lì tra una degustazione e l'altra proverò a prendere un po' di appunti su ciò che c'è in fiera e fare appunto qualche video. Ma passiamo adesso alla birra in questione. Appunto abbiamo detto che il birrificio è De Waal, ci troviamo in provincia di Varese. Piccola nota, abbiamo nominato pochi video fa sia Varese sia De Waal. Varese perché è la stessa zona in cui ha sede anche Extra Omnes, citato credo due video fa. E De Waal perché l'abbiamo nominato tre video fa, se non conto errato. perché è anche il birrificio dove brassa la beer firm, Nix Beer, citata appunto pochi video fa. Dicevo De Waal, siamo quindi a Varese. In Italia la birra in questione è una Doppelbock, categoria 9A del BJCP. E il nome di questa birra è appunto Billy Goat. Grado alcolico per questa birra 7,5 gradi, acquistata in un beer shop, queste bottiglie da 33 cl a 3,70 euro. Bicchiere suggerito per questa birra. Un Pilsner, appunto classico tedesco, anche un Pocal che è molto molto simile. E non si tratta di un primo assaggio. Allora, innanzitutto credo sia questa la prima birra che registro su questo canale di De Waal. Ho cercato qualche informazione sul birrificio e a differenza di molti altri siti, fortunatamente De Waal racconta anche un po' la storia delle persone e del birrificio. Cosa che appunto spesso su altri siti purtroppo non si trova. Ma personalmente mi fa anche piacere vedere un po' come è nato questo birrificio, chi c'è dietro e qual è un po' anche o lo stile o la filosofia o comunque da dove è nata l'idea di affrontare una scommessa industriale come può essere quella di aprire un birrificio artigianale oggi in Italia. Leggevo infatti che il birrificio nasce nel 2013, tra l'altro ristrutturando quello che era un ex capannone tessile. E' presente anche sull'esterno del birrificio un grande graffito realizzato e cercato il lovewriter si chiama Max Gatto che è anche l'autore di tutte le etichette di De Waal che hanno sempre dei disegni secondo me molto ben fatti e particolareggiati e appunto è lo stesso autore di questo appunto murales che c'è sulla parete esterna del birrificio. L'impianto è da 20 ettolitri a cui seguono 16 fermentatori, quindi 20 ettolitri la parte di cotta, di sala cottura e 16 fermentatori. Infatti appunto come dicevamo prima fa anche un po' di birracconto terzi, De Waal e mi viene in mente appunto un ex beer citato due video fa. A proposito di etichette e disegni, su questa etichetta c'è quello che sembrerebbe essere uno stambecco o una riete e qui dovremmo fare un passettino indietro per introdurre lo stile. Allora se non vado errato così a memoria su questo canale dovrebbe esserci il video della Paulaner Salvator che in quel video appunto ho fatto un po' un'introduzione allo stile appunto delle boc e dopo il boc perché appunto la Paulaner Salvator è da un certo punto di vista considerata un po' la capostipite di questo stile. Lo stile infatti nasce nel 1600 circa in un convento di monaci paolini vicino a Monaco di Baviera. La birra nasce come birra da quaresimo, comunque una birra pensata, le boc e le doppel boc dico, nascono appunto come birra pensate per quei periodi in cui il clero doveva praticamente stare a digiuno. Questo perché il digiuno è inteso semplicemente come un digiuno dal cibo solido, mentre non c'è nell'escrittura o comunque nell'interpretazione che il clero dà delle scritture un riferimento esplicito al digiuno da bevande liquide. Di conseguenza con questa classica escamotage per raggirare le regole divine si è creato questo stile di birre particolarmente nutrienti, particolarmente caloriche, sia per un utilizzo abbondante di malto, sia per malte e punto zuccherini, sia per il volume alcolico sostenuto, sappiamo che l'alcol è molto calorico, e quindi si può raggirare il divieto di introdurre il cibo solido con dei cibi liquidi molto sostanziosi, tanto che queste tipologie di birre venivano chiamate pane liquido proprio per indicare come la natura fosse molto simile a quella del pane, uno dei cibi principalmente utilizzati e consumati ovviamente soprattutto in epoca antica, ma appunto sotto forma liquida e quindi in modo tale da fregare tra virgolette la legge divina che imponeva il digiuno. Sul sito della Paulaner c'è anche una bella storia che racconta che a un certo punto, se non ricordo, l'abate di questo monastero appunto paulino, all'abate viene un po' il dubbio che forse si stia un po' peccando di gola o comunque non vada proprio bene questo escamotage per raggirare la regola del digiuno durante la quaresima. E allora cosa succede? Chiedono al Papa se possono fare questa cosa. Prendono una botte di quella che poteva essere un'antenata delle boc o delle doppel boc moderne, la spediscono a Roma, questo durante il periodo di quaresima, in diversi giorni la botte arriva a Roma, in uno stato che vuole la leggenda che appunto ho letto su questo sito, non arrivasse proprio nel migliore dei modi. Probabilmente quindi a Roma e in Vaticano hanno assaggiato un qualcosa di probabilmente infettato acido, e le considerazioni che furono fatte dal Papa furono appunto che un prodotto così difficile da bere sicuramente doveva avere proprietà curative per l'anima, per il corpo, per lo spirito appunto e per gli organi del corpo. Di conseguenza dà l'ok a consumare praticamente illimitatamente tutta la doppel boc che i paolini volevano. Questa appunto, ripeto ancora, è una storia che ho trovato online, magari vi lascio in descrizione anche il sito, il sito della Paulaner dove viene raccontata questa storia. Viene anche ripresa dall'ottimo blog Una Birra al Giorno, che appunto, non ricordo più se proprio sulla scheda della Paulaner, Salvatore o forse su qualche altra boc tedesca, riporta questa storia. A proposito di Salvatore, una cosa molto interessante è che molte birre tedesche, mi vengono in mente, quelle un po' più facili da trovare forse sono, per stare appunto sempre a zona di Monaco di Baviera, la Salvatore di Paulaner e la Celebrator di Ainger. Credo si pronunci Celebrator, cioè all'inglese è Celebrator. In tedesco non lo so, anzi se qualcuno di voi conosce il tedesco mi può risolvere questo dubbio se si legga Celebrator, Celebrator o Chelebrator forse con la cidura. Comunque queste due sono delle doppelboc molto facili da recuperare, anche al supermercato con tutti i limiti che ovviamente la distribuzione nel supermercato comporta, anche se per spezzare una lancia a favore delle birre recuperate dal supermercato non sono birre con lupoli particolarmente in evidenza al naso, quindi diciamo soffrono un pochino meno rispetto alle IPA o altre birre molto lupolate. Comunque queste due birre, sia la Salvatore sia la Celebrator, hanno la desinenza in Athor appunto. Tantissime altre birre tedesche, boc e doppelboc, hanno la desinenza in Athor. Altra caratteristica di queste birre è oltre alla desinenza in Athor, che appunto si rifà queste birre storiche, la presenza nella veste grafica solitamente, nel logo o comunque nelle immagini legate alla birra, del caprone. Questo è un gioco di parole perché è la parola boc che definisce questo stile e anche la desinenza per tutta una serie di ungulati in lingua tedesca come appunto capre, caproni, ariete, stambeco e cose di questo tipo. In questo caso la birra si chiama Billigot, con un nome quindi inglese, non tedesco, ma Billigot appunto in inglese significa ariete o comunque caprone, e sull'etichetta c'è disegnato, allora a me sembra uno stambecco, a dire il vero, anche se si vede solo la parte della testa. Però date le montagne sullo sfondo potrebbe essere tranquillamente uno dei tanti stambecchi presenti sulle Alpi. Tra l'altro la sede del birrificio è avarese e sulle Alpi Lombarde è relativamente facile trovare gli stambecchi. Tra l'altro a proposito di capre e teste di caproni, qualche giorno fa leggevo sull'account Instagram di Worst Beer Blog, un account e un blog appunto che parlano di birra in generale e trattano principalmente la scena americana, però di un birrificio craft americano che ha ricevuto diverse lamentele, perché secondo non so più quale invasato, la presenza su queste birre, in quel caso è presente anche sull'ogo, la testa di un caprone appunto con le corna, poteva essere un simbolo satanico e indurre quindi a certe forme di satanismo che secondo ovviamente l'autore del post potevano essere considerate negative. Noi su questo canale rassicuriamo tutti, siamo aperti a tutte le religioni e i credo e quindi possiamo bere anche birre con teste di caproni senza temere alcunché. Ok, ho parlato a lungo, mi piaceva però riprendere un attimino la storia di questo stile che è secondo me anche molto curiosa e simpatica. Per quanto riguarda l'estetica della birra, c'è un tappo con il logo di The Wall, mentre è una unica etichetta che ricopre tutta la parte bassa della bottiglia con appunto il disegno che dicevo prima dell'autore, ha riportato anche la firma in basso Max Gatto, il logo appunto Billy Goat riporta questo stambecco e sul retro invece dell'etichetta ci sono le informazioni classiche ingredienti che in questo caso sono malto d'orso, luppolo e lievito viene riportato che è una birra a bassa fermentazione è interessante che sull'etichetta di The Wall c'è sia il colore espresso con la scala EBC in questo caso siamo a 25, infatti è una birra molto scura sia gli ibu, che in questo caso sono 28, quindi una birra non eccessivamente amara, anzi tutt'altro e il volume alcolico ovviamente è 7,5 gradi come riportato nella scheda a inizio video. Ok, direi che finalmente possiamo aprire questa birra. Ah, giustamente non ho detto nulla sul bicchiere, questo qui è un bicchiere che può andare bene secondo me appunto sia per le pills sia per le bocche, doppel bocche. Esiste una versione leggermente diversa, quello che a volte trovo chiamato come Pocal su alcuni siti internet e mi viene in mente quello della Celebrator ne ho uno brandizzato, ma al momento non qui, magari vi metto in fianco una foto è molto molto simile, quindi sempre con lo stelo, ma uno stelo molto corto semplicemente a differenza di questo qui che è più o meno troncoconico quello della Celebrator semplicemente è un po' meno svasato sembra più un bicchiere cilindrico, diciamo a colonna classico, però cambia poco per questi stili può andare benissimo un bicchiere come questo Allora, se volessimo fare una spillatura in tre colpi come vuole la spillatura alla tedesca o meglio il servizio alla tedesca, visto che non la stiamo spillando direttamente da un impianto sarebbe bene tecnicamente non mettere la bottiglia in verticale per evitare di alzare il fondo e di riversarlo solito discorso che faccio quasi in ogni video in questo caso per praticità non sto a fare il servizio in questo modo comunque il lievito adesso si è già agitato un pochino sul fondo ma farò quindi solo la degustazione di questa prima mescita poi magari a telecamera spenta verserò anche tutto il resto, mi degusterò anche il lievito partendo però dall'analisi appunto visiva allora la schiuma è abbondante con una grana abbastanza fine è di un colore, non è propriamente bianca, è un diciamo colore crema perché tende appunto leggermente a un colore beige marroncino però ha molto molto tempo il colore della birra, allora innanzitutto la birra è molto limpida ed è un bel colore ambrato con una discreta frizzantezza si vedono già alcune bollicine che appunto si muovono verso l'alto del bicchiere direi che passiamo al naso allora il naso non è particolarmente intenso l'intensità è bassa o medio-bassa ciò che troviamo nel naso sono sicuramente i malti i malti che vanno dal caramello al miele principalmente le due cose importanti che si trovano al naso sono appunto miele e caramello, non c'è speziatura una cosa ecco che c'è in questa birra che in altre boc mancano molto leggera ma concentrandosi e andando proprio a pensare la si sente c'è una parte data dei luppoli che va floreale erbaceo molto leggera appunto ma è una componente appunto che si sente sono leggeri questi luppoli ma ci sono, non in tutte le boc ci sono lo stile appunto non prevede una componente predominante dei luppoli ma appunto in questo caso si sente una leggerissima luppolatura anche al naso beh anche in bocca è esattamente quello che ci aspettavamo al naso la caratteristica principale, il gusto principale in bocca è il dolce c'è la dolcezza del malto che ha il sopravento su tutto bilanciata sì solo in fondo da una piccola chiusura maricante ma molto leggera e sicuramente la sensazione principale, la sensazione gustativa principale è il dolce sul retro gusto e retro olfatto le sensazioni sono ancora quelle ovviamente dei malti caramello e miele principalmente, un po' di erbaccio dei luppoli appunto solo verso la fine considerazioni sul corpo e sulle sensazioni boccali allora rispetto ad altre boc mi viene in mente, penso sempre alla celebrator perché è quella che ho consumato maggiormente soprattutto quando ho iniziato a cercare di conoscere stili diversi essendo molto facile da reperire la celebrator e piacendomi molto come birra ne ho consumata parecchio ecco se sto, se provo a fare un confronto con quella che per me è stata uno dei primi approcci alle bocche le doppel boc per essere precisi qua trovo un filo meno corpo nel senso che il corpo è medio ma non è particolarmente appunto corposa come birra ma una frizzantezza leggermente maggiore che per esempio su altre boc non trovo ultima considerazione sempre per l'aspetto appunto gustativo è l'alcolico e il warm appunto in bocca che è presente e prende solo a fine della bevuta quindi non è mai invadente perché a 7 gradi e mezzo incominciano a essere diciamo che cominciamo a spostarci nella fascia alta delle categorie diciamo alcoliche di birre e infatti non è una boc ma una doppel boc quindi con un uomo alcolico più importante ma appunto non è mai fastidioso questo alcol è solo un leggero warm che si sente un leggero warming che si sente appunto in bocca a fine bevuta per concludere quindi un'altra ottima boc made in Italy questa era la billy goat del birrificio The Wall Skoll Skoll